Buongiorno raga, bentornati in un nuovo vlog. Adesso sono le 11.47. Adesso andiamo a preparare qualcosa da mangiare. Visto che ho fatto. Comunque non sono reggisieni ma ho la maglia, cioè quella maglia che avevo indosso, però sai come ho caldo? Allora l'ho messa così. Che ne dite? Geniale, vero? Allora, andiamo a cucinare. Allora, stavo pensando di cucinare, cucinare tra virgolette. Questi qua che sono i fagiolini, quelli fini, verdi, ecco, con del pomodoro e fare tipo una specie di sugo, ecco, improvvisiamo, vabbè, cioè, veramente. Perché comunque in frigo non c'è tanta roba, cioè, è mezzo vuoto, quindi, sì. E allora andiamo a fare questa cosa. Niente, solo questi due ingredienti. Ah, se trovo del mais sarebbe perfetto con del mais. Perché è molto buono col mais. Ma non so se ce n'è. Mi saprò più di no. Allora, mais, mais, mais. No, non ce n'è. No, niente, raga, mais, non ce n'è. Quindi, solo quelle due cose. C'ho fame. Vaffanculo. Allora, padella. Ok, questa padella è un po' storta. E, allora, andiamo ad aprire questo. Non ce la faccio. E dai, ok. Va bene. No, non ce la faccio. Abbondiamo. Abbondiamo, l'ho messa tutta, che sono 440 grammi. Ecco. L'ho abbondato perché comunque, dopo se era mio amoroso, inizia a rompere, che ha fame, quindi. Ecco. Va bene, accendiamo. L'ho messo insieme all'acqua che c'era dentro, così li bollisco un attimo. Ok. 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 Ok, raga. Cambio di programma. aggiungo anche della grecica già che l'ho trovata qui insomma facciamo la cosa più curiosa e non so se in Italia c'è ma ne ho mai visto in Italia ed è praticamente queste cose qua però non andrò a mettere tanto infatti ok cioè io raga non sto cucinando sto improvvisando ok non so neanche cosa sto cucinando improvvisando sperando che pesca fuori qualcosa di buono non so se li droppiando in realtà ok raga questo è quasi pronto e qua siccome erano dei pomodori intere li ho andato a schiacciare con questo bucchi insomma da quali un po' più piccoli come potete vedere ed è pronto anche questo adesso lo vado ad aggiungere lì e ci vediamo per il risultato finale ok raga qui sto già mangiando cheat sono le 12 47 questo è il risultato finale diciamo buono per avere improvvisato buono stranamente e niente qua sta funzionando invece il pane che ha messo a me che ha messo mia suocera perché è arrivata e ha mangiato anche lei ok allora raga guardate che ce l'ha non ti vedi? non ti vedi? non ti vedi? allora raga sono 22 e 11 e... tu cosa fai? e guarda film su netflix e... dopo la mia lista lì 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 qua capucetto rosso sangue questo qui tu guardi? e di cosa pò a tre non c'è drillio ora guardiamo è sicuro è sicuro tu spegni sei più vicino io quando sono entrata era spenta è sicuro spegni ahia spegni io ho lavorato spegni è sicuro devi andare stai a fare il piede ma il piede oh vedi qua questo non sento per dolce si si perché ho mal di piede non ho scusato 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 no ho scusato non ho scusato Grazie a tutti.